Questa non può definirsi una scuola inclusiva, questa non è la scuola che vogliamo. Per il Comitato Diritti Infanzia e Gioventù, già noto come Comitato Salute e Diritti a Scuola delle Marche, il nuovo provvedimento del Governo, che impone e lascia passare per gli over 12 per accedere ai mezzi di trasporto, viola il diritto all'istruzione e impedisce ai giovani, se non vaccinati, di frequentare regolarmente la scuola, al di là dei proclami sull'impegno delle istituzioni per tornare in classe e contrastare l'abbandono scolastico. Proclami vuoti per il Comitato e utili solo alla propaganda, visto che di fatto si continua a limitare le occasioni sociali dei ragazzi, escludendo chi non si è sottoposto alla profilassi. Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera alla Regione, indirizzata al Presidente Francesco Acquaroli, agli assessori e ai consiglieri, chiedendo di derogare a questa misura definita discriminatoria. A portarci la sua testimonianza oggi è Elga Wolf, una mamma casalinga, residente a Loreto, che deve sostenere cifre importanti per far sottoporre i suoi figli di 14 e 17 anni ai tamponi ogni 48 ore, domenica compresa. L'obbligo dei tamponi comporta oltre una spesa economica per famiglie, anche monoreddito, come nel mio caso, anche una specie di violenza, perché i ragazzi sono costretti a dimostrare di essere sani per poter andare a scuola. Tra i ragazzi, ci ha spiegato Elga, c'è molta solidarietà e sono comprensivi verso i compagni sprovvissi del Super Green Pass, senza il quale non possono accedere a diversi luoghi della socialità né sedersi nei tavoli di bar e ristoranti. Per questo spesso si organizzano con iniziative in casa. Il comitato poi ha espresso disappunto per l'intento del Ministero dell'Interno di impegnare le forze dell'ordine nei controlli, sia nelle fermate che sui bus, multando chi non ha il certificato verde con chiaro intento punitivo. I fuori legge da perseguire, si prosegue nella lettera, sono diventati dei semplici studenti alle prese con compiti in classe ed interrogazioni. E sugli autobus sono stati eseguiti dei controlli che lei sappia? Sì, mia figlia mi ha riferito il primo giorno alla discesa dall'autobus vicino nei pressi della scuola, c'era la polizia che controllava appunto questi Green Pass. Polizia mai vista in questi anni, in quattro anni di liceo da mia figlia, magari per altre problematiche, si parla di droga che gira nei pressi della scuola, eccetera. Ora con il Green Pass le forze dell'ordine sono molto intransigenti. E voi che cosa chiedete alla Regione come comitato? Noi chiediamo di esonerare i ragazzi che si recano a scuola da questo Green Pass per i trasporti. Voi come vi siete organizzati? Accompagnate voi i ragazzi a scuola? So che ci sono tanti gruppi solidali in cui si scambiano i passaggi, eccetera, ma non sempre si riescono a trovare questi passaggi. Oggi per esempio nel mio caso da Loretta ad Ancona sono sui 25-30 chilometri, per cui capisce che non è possibile, anche perché il costo del carburante sarebbe maggiore del costo del trasporto. Quindi un disagio per voi? Un grande disagio, sì. Grazie. Grazie.